Il film di Fellini è pieno di magica e idee che non dovrebbero collegare, ma fare. E' il mondo del sogno. Non aveva certezze. Geniale, inspirato, magari con dubbi, con una fecondità, la fecondità. Adorava il mistero e quindi dappertutto cercava di coltivare questo senso del mistero e di restituirlo sullo schermo. Fellini era sempre giocato, era guardato le cose ironicamente e mi ha sempre fatto riuscire. Mi chiedevano tutti, ma com'è nella vita? Sono convinta che Federico sapesse leggere nelle persone. Aveva questa dote rara. L'interiorità dell'uomo spirituale può essere il comune oggetto e scopo della scienza come dell'arte. Ciascuno si esprime con i mezzi che gli sono congeniali, io con la macchina da presa.